Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano. Oggi è il venerdì 13 di agosto del 2021. Noi siamo qui per leggere la parola insieme. Da lunedì al venerdì, sempre a mezzogiorno, noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Non importa per noi se sia autunno, se sia estate, primavera, inverno, noi leggiamo sempre la parola del nostro Signore. Durante questa puntata del venerdì, noi durante questo mese di agosto, noi leggeremo tutto il capitolo 22 di Primo Re. Questo che tra l'altro in questo venerdì noi stiamo a concludere la lettura del libro di Primo Re. A partire dal lunedì, Dio piacendo, noi continueremo la lettura, ma leggendo il primo capitolo, ma di Secondo Re, perché ci sono due libri, il Primo Re e il Secondo Re. Quindi quest'oggi, Primo Re, capitolo 22, soltanto il capitolo 22, lo leggeremo completamente e così concludendo, non solo la settimana, ma concludendo anche questo tempo di lettura del libro di Primo Re, la parola del nostro Signore. Passarono tre anni senza guerra tra la Siria e Israele. Nel terzo anno, Giosafat, re di Giuda, scese a trovare il re di Israele. Il re di Israele aveva detto ai suoi servitori, Voi sapete che Ramoth di Galahad è nostra e noi ce ne stiamo tranquilli senza toglierla di mano al re di Siria. E disse a Giosafat, Vuoi venire con me alla guerra contro Ramoth di Galahad? Giosafat rispose al re di Israele, Conta su di me, come su te stesso, sulla mia gente, come sulla tua gente, sui miei cavalli, come i suoi cavalli. Poi Giosafat disse al re di Israele, Ti prego, consulta oggi la parola del Signore. Allora il re di Israele radunò i profeti in numero di circa 400 e disse loro, Devo andare a far guerra a Ramoth di Galahad o no? Quelli risposero, Va, e il Signore la darà nelle mani del re. Ma Giosafat disse, Non c'è qui nessun altro profeta del Signore da poter consultare? Il re di Israele rispose a Giosafat, C'è ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare il Signore, ma io lo odio, perché non mi predice mai nulla di buono, ma soltanto del male. È Micaiah, figlio di Imla. E Giosafat disse, Non dica così il re. Allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse, Fa subito venire Micaiah, figlio di Imla. I re di Israele e Giosafat, re di Giuda, sedevano ciascuno sul suo trono, vestiti dei loro abiti e regali, nell'aia che è all'ingresso della porta di Samaria, e tutti i profeti profetizzavano davanti a loro. Sedechia, figlio di Kena'ana, si era fatto delle corna di ferro e disse, Così dice il Signore, con queste corna colpirai i siri finché tu li abbia completamente distrutti. Tutti i profeti profetizzavano nello stesso modo, dicendo, Va contro Ramoth di Galad e vincerai, il Signore darà nelle mani del re. Il messaggero che era andato a chiamare Micaiah, lì parlò così, Ecco, tutti i profeti unanimi predicono del bene al re. Ti prego, le tue parole siano concordi con le loro e predici del bene. Ma Micaiah rispose, Ma com'è vero che il Signore vive? Io dirò quel che il Signore mi dirà. Quando giunse davanti al re, il re gli disse, Micaiah, dobbiamo andare a far guerra a Ramoth di Galad o no? E gli rispose, Va pure, tu vincerai, il Signore la darà nelle mani del re. Il re gli disse, Quante volte dovrò scongiurarti di non dirmi altro che la verità nel nome del Signore? Micaiah rispose, Ho visto tutto Israele disperso su per i monti, come pecore che non hanno pastore. E il Signore ha detto, Questa gente non ha padrone, ciascuno ritorna in pace a casa sua. Il re di Israele disse a Giosafat, Non te l'avevo detto che costui non mi avrebbe predetto nulla di buono, ma soltanto del male? Micaiah riplicò, Perciò ascolta la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul suo trono e tutto l'esercito del cielo che stava a destra e a sinistra. Il Signore disse, Chi ingannerà Aqab affinché vada contro Ramoth di Galad e vi perisca? Ci fu chi rispose in un modo e chi in un altro. Allora si fece davanti uno spirito, si fece uno, uno spirito il quale si presentò davanti al Signore e disse, Lo ingannerò io. Il Signore gli disse, E come? Quello rispose, Io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca di tutti i suoi profeti. Il Signore gli disse, Sì, riuscirai a ingannarlo, esce e fa così. E ora ecco il Signore ha messo uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma il Signore ha pronunziato del male contro di te. Allora Sedechia, figlio di Kenahanna, si accostò, diede uno schiaffo a Micaiah e disse, Per dove è passato lo spirito del Signore quando è uscito da me per parlare a te? Micaiah rispose, Lo vedrai il giorno che andrai di camera in camera per nasconderti. Il re di Israele disse, Prendi Micaiah, portalo da Amon, governatore della città, e da Ioas, figlio del re e di loro. Così dice il re. Richiundete, rinchiudete, costui in prigione, mettetelo a pane e acqua finché io torni sano e salvo. Micaiah disse, Se tu torni sano e salvo, non sarà il Signore che avrà parlato per bocca mia. E aggiunse, Udite, questo popoli tutti. I re di Israele e Giosafat, re di Giuda, marciarono dunque contro Ramoth di Galad. I re di Israele disse a Giosafat, Io mi travestirò per andare in battaglia, ma tu mettiti i tuoi abiti regali. E il re di Israele si travestì e andò in battaglia. I re di Siria aveva dato quest'ordine ai 32 capitani dei suoi carri. Non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma soltanto contro i re di Israele. Quando i capitani dei carri scorsero Giosafat, dissero, certo, quello è il re di Israele. E si dissero contro di lui per attaccarlo. Ma Giosafat mandò un grido. Allora i capitani si accorsero che egli non era il re di Israele e cessarono di assalirlo. Ma un uomo scoccò a caso la freccia del suo arco e ferì il re di Israele tra la corazza e le falde. Perciò il re disse ai suoi cocchiere, Svolta, portami fuori dal campo perché sono ferito. Ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro di fronte ai siri e morì verso sera. Il sangue della sua ferita era colato nel fondo del carro. Mentre il sole tramontava, un grido corse per tutto il campo, ognuno alla sua città, ognuno al suo paese. Così il re morì e fu portato a Samaria e in Samaria fu sepolto. Quando si lavò il carro presso lo stagno di Samaria e in quell'acqua si lavavano le prostitute, i cani si leccarono il sangue di Aqab secondo la parola che il Signore aveva pronunziata. Il resto delle azioni di Aqab, tutto quello che fece, la casa di Avorio che costruì e tutte le città che edificò tutto quello che sta scritto nel libro delle croniche del re di Israele. Così Aqab si addormentò con i suoi padri e Aqazia, suo figlio, regnò al suo posto. Giosafat, figlio di Asa, cominciò a regnare sopra Giuda il quarto anno di Aqab, re di Israele. Giosafat aveva 35 anni quando cominciò a regnare e regnò 25 anni a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Azuba, figlio di Sili. Egli imitò in ogni cosa la condotta di Asa, suo padre, e non se ne allontanò, fece quel che è giusto agli occhi del Signore. Tuttavia, gli altri luoghi non scomparvero e il popolo offriva ancora sacrifici e profumi sugli altri luoghi. Giosafat visse in pace con il re di Israele. Il resto delle azioni di Giosafat e le prodezze che fece e le sue guerre sono iscritte nel libro delle croniche del re di Giuda. Egli fece sparire dal paese gli ultimi uomini che si prostituivano e che erano rimasti dal tempo di Asa, suo padre. A quel tempo non c'era re a Dedom. Un perfetto fungeva da re. Giosafat costruì delle navi di Tarsis per andare a Ofer in cerca d'oro, ma poi non andò perché le navi naufragarono a Esion Geber. Allora Acasia, figlio di Acab, disse a Giosafat, Lascia che i miei servitori vadano con i tuoi servitori sulle navi, ma Giosafat non vuole. Giosafat si addormentò con i suoi padri e con essi fosse porto nella città di Davide, suo padre. E Ie-oramma, suo figlio, regnò al suo posto. Acasia, figlio di Acab, cominciò a regnare sopra Israele e a Samaria, il diciattesimo, diciassettesimo anno di Giosafat, re di Giuda, e regnò due anni sopra Israele. Egli fece ciò che era male agli occhi del Signore e imitò la condotta di suo padre, di sua madre e di Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto pecare Israele. Adorò Baal e si prostrò dinanzi a lui e provocò lo sdegno del Signore, Dio di Israele, esattamente come aveva fatto suo padre. Il libro di secondo re, diciamo così, non finisce bene. Non finisce bene perché noi vediamo gente che non si era accostata più al Signore. Se tu vuoi avere una vita con un futuro certo, garantito dopo la tua morte, devi accostarti al Signore. E c'è solo un modo, Gesù Cristo, la via, la verità e la vita. Io ti invito questa domenica a partecipare con noi alle celebrazioni domenicali a Cesena in via Romagna 268 e a Rimini in via Cesare Pavese numero 8, entrambi alle ore 10 e 30, dove la parola di Dio sarà predicata con potenza. Che Dio ti benedica, un forte abbraccio e un santo bacio nel nome di Cristo Gesù. Che Dio ti benedica, un forte abbraccio e un forte abbraccio.